Os 2023 continua, ci troviamo allo sen della Federazione Italiana Cuochi dove si sta svolgendo uno show cooking grazie alla collaborazione con Unilever Food Solutions e Barilla for Professionals. Ci troviamo in compagnia di Alessandro Alaimo Di Loro, il responsabile Italia di Unilever Food Solutions. Alessandro, benvenuto. Benvenuti a tutti voi e grazie per questo spazio che ci avete dedicato, siamo di sicuro molto orgogliosi di stare qui in host con tutti voi. Alessandro, perché il menù del futuro? Che cos'è? Il menù del futuro è tante cose. Oggi siamo qui con la Federazione Italiana Cuochi e con Barilla e portiamo avanti un po' un concetto che abbraccia un po' tutto il mercato della ristorazione. L'abbiamo chiamato trovare il giusto equilibrio tra valorizzazione e esperienza, valorizzazione nelle cucine che partono dagli ingredienti ma anche tutti quei tempi, le operation, le squadre, le brigate che lavorano in cucina e poi essere sempre molto consistente con l'esperienza che vogliamo regalare ai consumatori. E quindi come l'industria può supportare insieme alla federazione, insieme a tanti brand partner di questa attività, come possiamo supportare i ristoratori per un futuro che sia sempre più sostenibile per le loro aziende e anche per i consumatori per dare sempre una cucina italiana che sia vera, autentitaria e soprattutto credibile. Il menù del futuro è parte integrante del progetto Food Art. Che cos'è dunque il progetto Food Art? Beh, Food Art è un progetto che abbiamo iniziato circa quattro anni fa. È un progetto che cerca di fare cultura partendo dagli ingredienti, partendo dalla realizzazione di piatti che guardano sia alla tradizione ma anche alla modernità. Infatti l'anno scorso il tema è stato tradizione moderna. Quest'anno ce ne saranno altri ma soprattutto ci sarà sempre la costante presenza di Chef Stellati. Oggi abbiamo avuto il piacere di avere qui Felix Lobasso insieme alla federazione e a Barilla e diciamo che vogliamo accompagnare un processo di sviluppo di cultura attorno al mondo della cucina italiana dove l'industria può accompagnare ristoratori e operatori per un futuro sempre più sostenibile. Unilever Food Solution accompagna la federazione italiana cuochi ma anche tutti gli altri cuochi che in Italia cucinano per il pubblico. Con quanti prodotti disponibili? Beh, lo facciamo con un assortimento prodotti di oltre 100 referenze. Prodotti che però a me piace sempre raccontare un po' come soluzioni, no? Che è anche un po' il webinar di oggi. Trovare questo giusto equilibrio non è legato solo al prodotto che Unilever Food Solution o Barilla vogliono portare sul mercato ma è legato a come quel prodotto può facilitare la vita, può semplificare i tempi, può semplificare i processi e questo di sicuro nel medio periodo è la soluzione sostenibile in termini economici per dare una buona esperienza di consumo ai consumatori che al tempo stesso il conto economico del ristoratore e dello chef è sempre vivo e soprattutto positivo che è la cosa più importante. Per mettersi in contatto con noi quali sono i canali attraverso i quali è possibile farlo? Beh, i canali... noi ci piace sempre essere abbastanza digitali quindi tutti i canali social siamo presenti su Instagram, su Facebook come Unilever Food Solution Italia quindi potete assolutamente trovarli nelle piattaforme e soprattutto anche questo bellissimo webinar che abbiamo fatto oggi la cosa che ci piace raccontare non l'abbiamo fatto solo in versione fisica qui presenti ma lo faremo anche alle 3 di pomeriggio in versione live streaming vi potete iscrivere direttamente sulle nostre piattaforme social è un modo anche per raccontare un po' un percorso di evoluzione che Unilever Food Solution vuole portare nella ristorazione facendo capire che la presenza è chiaramente cosa più che gradita però poi per portare i contenuti a tutti gli oltre 200.000 ristoratori e chef italiani la piattaforma digitale è molto importante quindi vi aspettiamo e per qualsiasi necessità abbiate basta scrivere un messaggio le nostre ragazze sono bravissime a rispondervi subito Grazie Alessandro, noi intanto in qualità di informatori del settore su orecanews.it e naturalmente orecatv.it riporteremo fedelmente tutte quelle che sono le novità che la Unilever Food Solution porterà al mercato Grazie Alessandro Grazie a te, grazie a tutti voi che siete stati con noi e che starete con noi